bella a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video io sono peppe channel e adesso in questo video vi farò vedere un po di povini dei ragazzi che partecipano a x factor ok buona ricerca eccoci giunto ragazzi eccomi qua faccio vedere la gente che ci sono per fare i povini di x factor grazie come potete vedere ma c'è molta gente hanno messo il percuso proprio a che si deve fare seguiamo questo percorso e ci vediamo ok ciao ragazzi anche di qua ragazzi guardate quanta gente c'è per x factor ragazzi mi trovo dietro al pannello x factor e voglio poi dire ancora quanta gente che ci sta ok guardai qua ragazzi eccomi ancora qui e 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 andiamo a vedere un po' di altra gente che sta che sta arrivando a fare i poemi di big fatter ok andiamo e 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 ragazzi la la situazione è e c'è molta gente e e e e e e e ok a dopo ciao ragazzi fa caldo però pian piano stanno chiamando a tutti quanti e 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 c'è da 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 dalle marche gente un po' da 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 tutta Italia a capiscino un po' a specchiate un po' alla situazione com'è ma alla situazione com'è a a a io spero di rientrare nel primo pomeriggio anche perché poi devo andare al lavoro e quindi però è molto celere la situazione e non hanno perso tempo almeno in questo sono stati davvero molto molto celeri adesso speriamo di fare un buon provino di mostrare quello che faccio quello che suono e che pezzi hai portato? allora porto Cremonini io e Anna gli Oasis Wonderwall un pezzo mio che si chiama Futuro e poi porterò sono ancora indeciso tra a a wherever you will go the day calling oppure a ok ciao buona giornata ragazzi 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 c'è c'è molto affluenza e perché mi sono fatto un po' il giro c'è veramente un cattino di gente e e e e ognuno man mano sta e va facendo il il suo po' ok a dopo ciao ragazzi mi sa che che Sky ha 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 chiamato a a di 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 ragazzi a per fare uno video ma mi ha chiamato da sopra e vedo un po' a che cosa fare mi fa tempo sentite la gente cantare perché stanno provando e i e loco oh baby ok ciao ciao ragazanova ah 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 ok 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ci vediamo tra poco Ciao Ragazzi Mi sa che ci siamo quasi Yeah Bye No 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 Forse Forse No 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 E' sempre quello! In questo modo mi piace. a a a a, spiegati, 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 in sindere, e di nirvana, e di indiana, e di gloria. E' lunga qui Eh, va giù E' questo oggetto qua Oh no Vai, fai la scimmia Ah 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 Fai la scimmia su faccina Oh ah 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 Go Michael Go Michael If you really Oh Come è Ragazzi, ci siamo divertiti in un luogo con occidentali Oh Adesso che pezzo fai? Oh Wow, bellissimo Ehm 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 L'accordo di tuo o l'accordo di? Cosa? Ehm 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 Guarda, come si chiama? Ragazzi Ragazzi Ehm 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 Anni ci sarga, gira dal centro, schierando i novanta, rotta di fuoco, comincia la tanda, presto il suo indietro, attaccata la targa, e dammi una stessa, non cercate chi avanza, e dammi una testa, ti porto in paganda Ragazzi, tutto live! Ragazzi, faccia il giro, con le aree, tutti i miei, se a me basta già che, ti togli problemi, ma quando è bello andare in giro, pericoli, come se a me basta già che, ti togli bugerì, e la suora non va, la suora non va, ma una bestia, una donna, no, 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 E una bestia di domenica e già, e una bestia di porterà, 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 mi porterà, poricina, na, 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 I subscribe to Pepeciano, thank you. Ragazzi, tutto live. Grazie. Ragazzi, ci troviamo con Riccardo dove ci farà un po' di pezzi a cappella che porterà a X-Factor, ok? Ok. Vai. Wise men say, only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Questa qua è quella che porta. Poi l'italiana c'ho. L'italiana? L'italiana c'ho. Solo per te, convinco le stelle, a disegnare nel cielo infinito qualcosa che somiglia a te. E poi... Ok, grazie. Niente. Il cuore a volte non mi fa dormire, aiuta gli ammalati, aiuta gli sperati, aiuta chi ha bisogno, la musica nel cuore è una terapia. La musica nel cuore è una meteoria. a viaggiare con i pensieri, è la musica nel cuore che ci rende sempre contenti, è quella sensazione che non ci fa vivere, dico gli senti, è la musica nel cuore che appartiene al mondo intero, che ci spinge ad andare avanti anche per un solo momento, la musica nel cuore a volte non mi fa dormire, non mi fa dormire, non mi fa dormire. Ragazzi, come vedete, la gente ne fa tempo di essere chiamati, siete che ci sono con i pezzi che poi dovranno portare l'incrocio, ok? A dopo, ciao! 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 Quello di prima era un nostro pezzo che si chiama Stronger. Ciao! 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 Secaplica, look like Michele, look like Buda Vinci I should be alive like in Southampton and in a major city, man I'll be gone in November in a random city that I came Right back on my waffy 80s, yeah Pumbo homes together that I made it great, please, yeah There should be no love, I don't need all the faith, yeah They got me feeling like I won again, yeah They got me feeling like I won again Yeah, it goes out of night, it's all over me, I need a full band Cause they have to run around, they have to beat Band, band, 50 bands, only bands, fucking band, yeah Let's do something in the sky, man, I'm g, I need a flea I'm tripping, I'ma let her, I'm tripping, I'ma let her I'm in a creek, I've been in a creek I'm in an house, I've been in an hour I don't know how to try, I don't know how to try In a sea, scoog it with a re-smoosh I've been in a creek with a phone job I'm in an out, taking no calls I don't know, it's like a machine going In a sea, scoog it with a re-rip, re-rip, re-rip Ragazzi mi trovo con Angela Angela che ci canterà al cappello Other people E vai You broke the spell And wanted something else Well now go fuck yourself With other people Oh baby, they're just your body Go late, we know everybody They won't be there when you're sorry Other people Oh baby, they're just your body Go late, we know everybody They won't be there when you're sorry Other people Ciao And from the beginning of X-Factor That's all, see you next video Ciao